Doc da relazione, parliamo del disturbo ossessivo compulsivo da relazione. Ho fatto numerose riflessioni, interventi, interviste, video su il disturbo ossessivo compulsivo e ho anche spiegato insomma quali possono essere le diverse caratteristiche di un disturbo ossessivo compulsivo rispetto ad un altro. Giusto una piccola cosa prima di parlare del doc da relazione, è bene sapere cosa sono le ossessioni e che cosa sono le compulsioni. Le ossessioni sono l'insieme di pensieri ricorrenti, ricorsivi, intrusivi nella testa della persona che in un qualche modo destabilizzano la persona stessa perché ancorano la sua vita attorno a quel pensiero che può essere poi anche una paura, insomma comunque legato a qualcosa che occupa la testa della persona nel corso della sua giornata. Le compulsioni sono dei tentativi di andare a sedare, ridurre l'ansia appunto legata a questo pensiero o al tentativo di controllo del pensiero stesso, cioè quindi la compulsione, l'azione, diventa anticipatoria in modo tale da tenere sedato il pensiero, anche se poi ovviamente questa cosa non funziona. Ossessioni e compulsioni. In doc da relazione è uno dei possibili disturbi ossessivo-compulsivi e ha a che fare, come suggerisce il nome, appunto con le relazioni. A differenza di quanto si possa pensare magari un po' sul luogo comune o a primo acchito quando si sente questo termine doc da relazione, non è tanto legato come patologia, come disturbo, al bisogno di rassicurazione rispetto alla relazione da parte dell'altro, cioè legato al dimmi che mi ami, dimmi che mi desideri, guarda che non mi dimostri abbastanza, cioè quindi alla continua richiesta di attenzioni e rassicurazioni e conferme. Quanto il contrario, cioè la persona che soffre di disturbo ossessivo-compulsivo da relazione, si interroga continuamente sulla bontà della sua relazione e quindi sul sentimento che prova rispetto appunto alla persona con la quale è in relazione. Ci sono diverse sfumature, ok, però sostanzialmente la domanda che ci si pone in continuazione è ma lo amo, sono interessato o interessata, è la persona giusta per me, è la persona che desidero, è ciò che effettivamente voglio per me, cioè si mette in discussione la relazione e lo si fa in diversi modi, appunto le sfumature che dicevo prima. Le principali sono due, una legata al sentimento che si prova, quindi si mette in discussione la relazione in quanto tale, cioè sono sufficientemente innamorata, è effettivamente la relazione giusta per me, mi sento travolta o travolto dalle emozioni all'interno di questa relazione, o legata a caratteristiche del partner, che possono essere quindi valoriali, morali o anche fisiche, cioè avere, come dire, un pensiero costante e continuo sul fatto di proseguire o meno la relazione, quindi un dubbio perenne in funzione di alcune caratteristiche morali, appunto, fisiche, valoriali, eccetera, della persona con la quale si sta. Questo che cosa fa? Porta, questa è l'ossessione, queste sono le due ossessioni, due macro categorie di ossessioni, porta con sé che la persona poi possa diventare compulsiva, cioè talvolta mette in atto degli atteggiamenti, dei comportamenti impulsivi, talvolta agisce delle compulsioni vere e proprie, quindi ad esempio fa l'elenco in testa delle cose che dimostrano, quindi pro o i contro, l'amore o il non amore, prende alcuni criteri di valutazione assolutamente arbitrari e soggettivi, ovviamente rispetto al proprio punto di vista di ciò che effettivamente testimonia la bontà della relazione o meno, quanti rapporti sessuali abbiamo, quanti ne abbiamo avuti nell'ultimo periodo, quanti abbracci ci siamo dati, quanto tempo abbiamo speso insieme, quante serate abbiamo trascorso, quante effusioni ci sono nel momento in cui ci incontriamo, ci vediamo, eccetera, 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 poi ognuno trova le proprie, e c'è un controllo, quindi un controllo continuo, un controllo costante, talvolta questo può sfociare anche appunto nella rassicurazione, non è una rassicurazione per paura di essere abbandonati, ok, è una richiesta appunto di conferma nella paura di essere abbandonati, è una richiesta di conferma per dire, ok, dammi conferma che effettivamente abbia senso che noi stiamo in relazione, è un'altra cosa, ovviamente questo pensiero poi va ad attannagliare la persona, che poi entra in un circolo vizioso sempre più ampio, ossia come posso stare in una relazione della quale non sono sicuro oppure non sono sicura, come posso essere effettivamente felice nel corso della mia vita se già adesso dopo x tempo inizia a pormi queste domande, è effettivamente la persona giusta per me o mi sto accontentando e quindi sarò dannato o dannata ad un'infelicità eterna proprio perché è una relazione che deve essere interrotta subito e quindi poi di contro, ovviamente ci possono essere dei gesti impulsivi come dicevo prima, che vanno a determinare l'interruzione della relazione, ma lì riparte poi il problema, cioè la paura enorme del pentimento, cioè del aver sbagliato, del aver preso una cantonata, perché poi anche nel momento in cui la relazione viene interrotta l'ossessione non passa, cioè semplicemente viene switchata sul, ok ora che sono solo o sola, quanto sto male, quanto potevo stare bene, quanto posso star bene se effettivamente sto con lui o con lei, di nuovo il circolo vizioso, quindi la cosa importante da capire è questa, che il disturbo ossessivo compulsivo della relazione è fatto di ossessioni e di compulsione come abbiamo appena visto, ma non è legato al bisogno di rassicurazione rispetto a pensieri o timori abbandonici da parte del partner, quanto è legato al dubbio rispetto alla bontà della relazione, al proprio sentimento o ai valori, alle caratteristiche morali, fisiche e valoriali del partner. Queste sono le caratteristiche principali del disturbo ossessivo compulsivo della relazione.